Sport e solidarietà, un connubio al quale siamo ormai abituati ma che non smette di dare buoni frutti. Le persone che vedete in sella alle loro biciclette infatti non sono ciclisti professionisti ma dipendenti Vodafone provenienti da tutta Europa che si sono dati appuntamento venerdì 12 giugno davanti alla sede di Corsico per il Global Biking Initiative. Tour ciclistico a carattere benefico giunto alla sua seconda edizione. Siamo 200 ciclisti, siamo 10 dall'Italia, l'anno scorso ero stato un po' la prepista, ero stato io l'unico italiano e ci sono tantissimi ciclisti dalla Germania, moltissimi dall'Egitto, poi ce ne sono altri da Grecia, Olanda, Inghilterra, Francia, Spagna, quindi un po' da tutto il mondo. Carichi di passione e buona volontà i partecipanti impiegheranno 7 giorni per percorrere gli 800 km che li separano dalla meta, la sede Vodafone di Düsseldorf. Un'occasione per divertirsi facendo del bene ma anche un modo per consolidare il legame dell'azienda con i suoi dipendenti. È un'iniziativa nata dai dipendenti che poi si è estesa anche attraverso i nostri sistemi, noi abbiamo un blog aziendale che si chiama NoiLab e su questo blog i nostri dipendenti si sono messi d'accordo, hanno trovato il supporto e poi siamo intervenuti noi come azienda per dare il supporto. Quanto raccolto dall'Italia attraverso donazioni di sponsor, di privati e degli stessi ciclisti sarà devoluto alla Fondazione Aquilone. La Fondazione Aquilone è una fondazione che lavora a Bruzzano con disabili, minori a rischio, persone senza fissa dimora, siamo molto contenti di dare un contributo. Come sottolineato dall'assessore di Corsico alla cooperazione internazionale Ernesto Ferrario, il Global Biking è un'occasione importante perché questa iniziativa benefica vede la partecipazione di tanti lavoratori e perché conferma la centralità di Corsico anche dal punto di vista della solidarietà.